Come è stata l'affluenza quest'anno per il Natale? Sì, considerando anche che chiaramente siamo stati conti proprio tutti per i momenti di crisi che stiamo attraversando, devo dire che quest'anno è una rivoluzione al corso molto elegante, certamente non è molto un'unica fantasmagoria, ma è regalissima, anche i nostri stand. Si può assaggiare signore? Un minuto, signore. Dico, si può assaggiare. Anche gli stand sono stati messi in un modo, voglio dire, abbastanza visibile, quindi non abbiamo un pieno in pace. Sono male. Grazie.